in questo numero di high tech innovazione magazine smartphone il 2024 si apre con il botto attacchi informatici l'italia nel mirino elezioni intelligenza artificiale e deepfakes ecco cosa rischiamo l'anno almeno per il segmento degli smartphone si è aperto con il botto con la notizia che apple per la prima volta nella storia ha superato samsung ed è diventata il più grande produttore al mondo di smartphone è una notizia in qualche modo attesa che però si è compiuta soprattutto nel quarto trimestre trimestre nel quale apple ha potuto contare sulle vendite dei suoi nuovi iphone usciti a settembre ora ci dobbiamo aspettare il controattacco di samsung che nel prossimo trimestre potrebbe fare il contresorpasso e visto la presentazione dei suoi nuovi smartphone flagship galaxy s24 nel 2023 apple ha venduto qualcosa come 234 milioni di pezzi mentre samsung si sarebbe fermata sempre per l'istituto di analisi canalis a 226 milioni di pezzi quindi c'è chi sale c'è chi scende ma in realtà la verità è che le due prime posizioni del mercato più o meno fanno una quota che si avvicina molto all'80 per cento di tutti gli smartphone venduti nel mondo non è comunque andata bene in generale tutta la tecnologia nel 2023 visto che gfk ci dice che a valore tutto il paniere della tecnologia ha fatto meno 6,4 per cento trascinata verso basso soprattutto dalla consumer electronics legge tv e dai pc e dell'informatica in generale tra l'altro volume il dato è ancora peggiore siamo almeno 7,3 per cento in questo ambito si legge ancor più con chiarezza la notizia di questa settimana che ci dice che bullet group azienda britannica produttrice di smartphone indistruttibili ha dovuto chiudere ha annunciato la chiusura ha licenziato i suoi dipendenti era una delle poche aziende produttrice di cellulari ancora rimasta in europa questo a sottolineare la difficoltà di sopravvivere in un mercato sempre più dominato da pochi colossi vedremo come andrà il 2024 le previsioni sono per un trend leggermente positivo in crescita soprattutto rimbalzeranno i settori andati peggio nel 2023 ma questo lo vedremo settimana di settimana sempre da in questo spazio è allarme sicurezza informatica in italia il nostro è uno dei paesi maggiormente sotto attacco a livello mondiale eppure il grado di attenzione da parte delle pmi è ancora basso ne ha parlato in un'intervista di barbara millucci per l'ital press massimo palermo country manager italia e malta di fortinet azienda specializzata in soluzioni per la cyber security già avevamo definito un anno nero il 2022 ma solo i primi sei mesi del 2023 testimonio del trend è ancora in peggioramento perché l'anno scorso l'italia è stato uno dei paesi più attaccati con un incremento uno dei paesi più attaccati a livello europeo a livello mondiale a livello mondiale con faceva registrare una media degli attacchi del più 169 per cento a fronte di una media mondiale del 21 per cento e questi dati chi li dirama sono sempre i dati del clusit e badiamo bene che si tratta di attacchi andata a segno e riportati e rilevati quindi c'è sicuramente una percentuale che ci sfugge i primi sei mesi come diceva lei testimoniano che in italia gli attacchi crescono quattro volte in più della media mondiale a fronte una media mondiale dell'11 per cento siamo vicini al 40 per cento in italia tendenzialmente aumenta come mai ma sicuramente ci sono tante tante motivazioni c'è sicuramente un tessuto economico produttivo particolare con la predominanza delle piccole e medie imprese è una predominanza anche della della pubblica amministrazione ci sono fattori aspetti culturali e di budget legati a questi e legate a questi aspetti in particolar modo io mi soffermerei perché ci sono anche un paio di report interessante contenuti all'interno del clusit ma pochi giorni fa è stato rilasciato un un report fatto su un campione di 800 imprese fatto dal cerved da clio security e grenche che evidenziava come piccole e medie imprese quindi parliamo qualcosa che rappresenta il 30 per cento dell'occupazione in italia e il 40 per cento del pil nel 70 per cento dei casi non viene fatta formazione sulla cyber security l'intelligenza artificiale sta rendendo più facile la vita dei creatori di disinformazione se generare fakes e immetterle in rete negli ultimi anni era stato già relativamente semplice con l'intelligenza artificiale lo è diventato notevolmente di più uno studio pubblicato su science ha dimostrato recentemente che gli esseri umani non sono in grado di distinguere tra tweet generati da chat gpt e quelli scritti da utenti reali di twitter un fenomeno ancora più preoccupante se in gioco ci sono le libertà le conquiste democratiche il voto libero da condizionamenti nel 2024 in tutto il mondo due miliardi di persone esprimeranno la loro preferenza si voterà in 76 paesi saranno 50 le consultazioni a marzo sarà la volta del cremlino a giugno saranno chiamati alle urne i cittadini di 27 paesi europei per rinnovare il parlamento a novembre voteranno gli americani per dare un nuovo inquilino alla casa bianca la preoccupazione per un voto inquinato dalla disinformazione e dalle fake news è più che fondata lo è ancora di più adesso che l'intelligenza artificiale consente di generare testi immagini video indistinguibili dalla realtà lo è ancora di più oggi che ci informiamo non preoccupandoci di scegliere fonti ufficiali informandoci in maniera distratta superficiale cercando conferme alle nostre suggestioni e alle nostre paure un assaggio di quanto può accadere è arrivato dagli states quando un robocall una chiamata pre registrata con la voce dell'attuale presidente joe biden ha invitato gli elettori del new hamshire e del new england a non andare a votare per le primarie ovviamente quel biden era un falso quanti ci sono cascati o in quanti si è innescato il dubbio o il disorientamento situazioni simili si sono ripetute in altre parti del mondo india indonesia bangladesh pakistan online sono a disposizione di chiunque software che consentono la creazione di falsi audio con i quali grazie all'intelligenza artificiale si possono avere dei veri e propri scambi di opinione ignorando che il nostro interlocutore non è reale il progresso dell'ai rende oggi la produzione e la distribuzione di deepfake sempre più economica e alla portata di tutti ma cogli di sorpresa cittadini società e sistemi legislativi fortemente impreparati quanto peserà tutto questo sull'esito delle urne quanto peserà sui processi democratici di formazione del consenso quanto sui governi del mondo e sugli equilibri geopolitici del futuro grazie a tutti